E cambiamo invece l'argomento, sono arrivati durante il pomeriggio di ieri numerosi partecipanti della Mariapoli che oggi hanno partecipato proprio direttamente alla prima giornata di preghiera, dialogo, testimonianza presso l'oratorio di Clusone. Nel servizio di Ivan Nembrini sentiamo le interviste a diversi partecipanti di questa giornata. Oggi è il primo maggio, è il giorno di apertura della Mariapoli, città di Maria che si svolgerà dal primo al 3 maggio, quindi chiuderà con domenica verso le 13. Stiamo iniziando a proporre questa iniziativa proprio per creare insieme e costruire questa città fatta di persone che vogliono volersi bene e vogliono portare tra loro la presenza di Gesù in mezzo. Tra le varie iniziative che faremo in questi giorni, senz'altro, è importante quella con la quale oggi partiamo è quella dedicata ai giovani, alle nuove generazioni che iniziano ad introdurre quella che è la settimana dedicata al Mondo Unito. Per questo motivo magari vi facciamo sentire anche la voce di Davide che ci può dire meglio quali sono le iniziative che si stanno realizzando oggi qui a Clusone. Brevemente, oggi il programma in sale inizia con qualche testimonianza di noi giovani più che altro sulla difficoltà di vivere un ideale come quello del movimento dell'ideale di Chiara Lubic nel mondo del lavoro, in università, nei luoghi dove si è costretti a vivere normalmente. Nello stesso momento a Lopiano, in una cittadella del Movimento dei Focolari, si è aperta la settimana, ci sarà il lancio della settimana del Mondo Unito e anche qui come giovani, qui a Clusone, ci sarà questo legame con i ragazzi giù a Lopiano nelle altre parti del mondo e nel pomeriggio e nella sera organizzeremo degli aperitivi e dei micro eventi dove in maniera molto normale verrà presentato questo ideale come noi giovani cerchiamo di portare avanti questa cosa. Durante questi aperitivi, uno poco prima di mezzogiorno e uno verso le 6.40 di sera si raccoglieranno dei soldi, ci sarà un'offerta libera che sarà devoluta per il terremoto dell'Abruzzo. Siamo all'interno dello spazio dedicato alla mostra del Dado della Pace resta aperta questa mostra durante i tre giorni della Mariapoli vediamo esposti sui vari tabelloni tutti i lavori effettuati dai bambini della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Clusone e dalla scuola dell'infanzia di Piario questi bambini hanno lavorato durante l'anno scolastico lanciando il Dado della Pace vivendo la frase che risultava da questo dado e scrivendo le loro esperienze su questi fogli e su questi disegni. Grazie.